La Puglia e le antiche origini, forte come ceramica d'Oriente. La mia non vuole essere una trattazione scientifica ma una condivisione con voi di suggestioni poetiche su questa regione. Gli antichi abitanti della Puglia erano gli Iapigi, stratificazioni di popoli che partì durante l'età del ferro. C'erano gli oriundi mescolati a gente, venute prima da Creta e poi dall'Illiria, creando un popolo unico. E da essi viene il nome Puglia, Iapudia, terra degli Iapigi, per altri da Apluvia, terra senza piogge, assettata. Gli Iapigi si suddivisero nel tempo in tre genti dai caratteri distinti, a nord i dauni, agricoltori, miti, specializzati nell'allevamento degli ovini da cui traevano una pregiata lana. Al centro nelle murgi Peucezzi, guerrieri, e a sud nel Salento i messapi, fieri, grandi allevatori di cavalli, vivevano in grotte e villaggi. Gli Iapigi costruivano case a capanna con rami, pali e canne impastate d'argilla. Nelle necropoli inumavano i defunti adagiandoli su un fianco. Erano retti da capi e vivevano di pastorizia, agricoltura, anche dell'arte della guerra. Ma una cosa sapevano fare bene più di tutte da Uni, Peucezzi e Messapi, lavorare la ceramica. Tantissime sono le testimonianze trovate nelle tombe, un vero tesoro. E si tratta di una ceramica con influssi d'Oriente, come si nota dal prevalere di elementi geometrici, linee, rombi, cerchi, punti. Talmente importante questo artigianato che può diventare il simbolo di questo popolo. E ha tre colori, ocra come i dauni allevatori, rosso come i peucezzi soldati e nero come i messapi cavaliere dei bruni cavalli. La ceramica poi è resistente, forte, come gli Iapigi, e le meravigliose olle anforette e scodelle di stile italico e lirico sanciscono la fusione eccellente in questo popolo tra Occidente e Oriente. Quest'arte attraversa il tempo e lo spazio. Come non ritrovare ghirigori e ripetitivi dei vasi dauni, perfino riflessi nelle profondità della terra, ingessati nelle estallatiti delle grotte come a Castellana? E le strane protuberanze dei vasi filtro non sembrano imitare gli scogli a torre emergenti dal mare Adriatico? E gli archi sinuosi degli Ascos di Canosa non sembrano assorbiti nei porticati bianchi degli scogli del Gargano? E gli agili cavalli bruni sulle trozelle di Ignazia continuano il loro galoppo dei neri cavalli murgesi, una qualità speciale. E la ripetizione geometrica bicromata delle tasse Iapige sembrano aver ispirato i trafori dei rosoni, quelli delle cattedrali normanne come questa di Troia. Oppure l'alternanza di piccoli rombi e punte bianche, come non ricordare la geometria dei magnifici trulli? E ancora le figure rosse delle anfore messapiche di Rutigliano che rappresentano la festa di Dionisio continuano in qualche modo a danzare nelle frenesie delle tarante, delle pizziche del Salento. E le precise figure nere dei vasi peucezzi, bellissime, sembrano in qualche modo rivivere nelle esili figure nere di un grande pittore pugliese, Denitis. E la precisione quasi ossessiva di questo vaso peucezio meraviglioso non può forse esprimere qualcosa del carattere dei pugliesi, allegri, cordiali, ma sempre nel fondo inquieti. Per l'anelito ha una perfezione mai raggiungibile per il possesso di contrasti indispensabili e mai sanati, stretti tra la sicurezza della famiglia a cui sono molto legati e il fascino dell'ignoto, come espresso in qualche modo da questa immagine della svelata di Ungaro, grande stilista di origini pugliesi. Pochi milioni d'anni fa dell'attuale Puglia erano emerse dal mare solo le dure zolle calcarea del Gargano, delle murge, barese e salentine. E da allora il lento lavoro delle deposizioni marine ha definito con rocce più tenere e recenti il contorno della regione fino a collegarla con la penisola. Così è scritto in paesaggi umani. Quindi fin dalle origini geologiche la Puglia è stata plasmata e riplasmata come argilla. Poi abitata da un popolo, gli Iapigi, popolo di tre popoli che sono stati inghiottiti dalla storia, ma ancora vivi per fortuna nelle forme artistiche che la terra ci ha restituito. Grazie di aver ascoltato queste suggestioni sulla magnifica e unica Puglia e se volete continuate a stare con me cliccando sulle playlist preferite.